La cartellina di disegno tecnico La cartellina di disegno tecnico comprende Una matita 2H Serve per disegnare, tratto leggero Un tempera matite Una matita HB La usiamo per ripassare, tratto pesante Una gomma bianca Per cancellare senza sporcare il foglio Fogli bianchi A4 da stampante Su cui realizzare le tavole di disegno tecnico Un compasso, balaustrone Le due aste che compongono il compasso, sono unite da una vite regolabile, che ne permette l'apertura e la regolazione Una squadra da 30 gradi, 60 gradi Per tracciare le linee Una squadra da 45 gradi Per tracciare le linee Una riga da 40 centimetri Per tracciare le linee Boste di plastica Per riporre le tavole di disegno tecnico Suggerimenti Abbi cura del materiale e conserva la cartellina in modo corretto, durerà per tutto il corso degli studi Consulta il registro elettronico per essere sempre aggiornato sui compiti, lezioni, verifiche, scadenze, voti ecc. Ricorda la password di Classroom per le attività di laboratorio Buon lavoro